Da 60 anni Taconova sviluppa soluzioni innovative per sistemi di riscaldamento, sanitari e impianti solari in ambito residenziale per grandi edifici. Bilanciamento idraulico, tecnologia delle valvole, tecnologia dei sistemi tra le aree di competenza. La gamma di pompe è progettata da TACO Italia per i principali produttori di caldaie OEM. Taconova fa parte del gruppo TACO Family of Companies con sede a Cranston, Rhode Island. Quali sono le principali anime che compongono la TACO Family? L'ATACO è un'azienda americana che ha acquisito nel 2016 TACO Italia e nel 2017 ha acquisito TACO Nova. Oggi in Europa il gruppo TACO è fatto appunto a TACO Italia e a TACO Nova. TACO Italia produce i circolatori che vende direttamente ai produttori di caldaie a marchio TACO e distribuisce invece nel mercato della distribuzione a marchio TACO Nova attraverso la rete distributiva TACO Nova ai grossisti e quindi agli installatori. In America la TACO è un'azienda americana che ha sede in Rhode Island e TACO è un'azienda leader nel settore idronico negli Stati Uniti ed è un'azienda che ha 102 anni. Ecco, la TACO Nova è quindi un gruppo leader internazionale nell'efficienza degli impianti, delle caldaie, degli impianti solari. Quali sono gli scenari che si aprono in Italia ad esempio? Beh, l'Italia è un mercato molto molto importante. Oggi siamo qua a parlare principalmente di TACO Nova e TACO Nova produce tutta una serie di componenti che vende ai produttori di sistemi. L'Italia è un mercato molto importante nella produzione dei circuiti di riscaldamento e dei collettori per circuiti di riscaldamento e adesso è ancora più importante l'Italia perché attraverso la rete distributiva appunto e attraverso l'investimento che stiamo facendo sui media vogliamo vendere tutto il catalogo TACO Nova agli installatori. Quindi il catalogo è fatto di valvole di bilanciamento idronico, le valvole di miscelazione, le pompe di circolazione che produciamo in TACO Italia e tutta la tecnologia dei sistemi, quindi le stazioni solari, le stazioni di acqua calda e sanitaria poi ci sono le unità di interfacciamento termico. Quindi è un catalogo molto vasto che siamo qui a presentare finalmente dopo tre anni in cui abbiamo dovuto lavorare soltanto attraverso i nostri uffici siamo qui a presentare al più vasto numero di persone possibili. Le pompe di circolazione TACO Nova, dicevi poco anzi, sono un po' il fiore all'occhiello per quanto riguarda i produttori delle caldaie e degli impianti solari. Quali sono le caratteristiche principali? TACO Italia è stata la prima a proporre questa tecnologia a alta efficienza oltre 25 anni fa. Abbiamo proposto all'inizio ai produttori di caldaie e oggi TACO Italia fornisce direttamente i più grossi produttori europei di caldaie. Poi invece attraverso, dicevo prima, attraverso la catena distributiva di TACO Nova tocchiamo tutto il mercato della distribuzione. Fra l'altro anche negli Stati Uniti, negli stabilimenti di TACO Cranston, oggi vengono prodotte le stesse pompe di concezione europea e sono già diventate in poco tempo lo standard anche per il mercato americano. Considera che TACO America è veramente l'idea di mercato nel settore idronico. I vantaggi, TACO Italia è un'azienda che è orientata, era fortemente orientata all'OIM e quindi abbiamo da subito proposto, oltre evidentemente al bassi consumi, all'alta qualità perché per lavorare con queste aziende che producono caldaie devi sottostare a dei protocolli di omologazione molto rigidi e poi noi abbiamo sempre cercato di proporre soluzioni molto customizzate proprio per il produttore della caldaie. la pompa è molto compatta, quindi sono tutta una serie di elementi che ci hanno consentito veramente oggi di essere considerato uno dei player di riferimento in Europa per la produzione di questo tipo di prodotti di pompe di circolazione per le caldaie. Vediamo che nel vostro stand qui alle nostre spalle sono molto presenti le valvole di circolazione idraulica. Quali sono i vantaggi di questi sistemi? Sì, le valvole di bilanciamento idraulico sono prodotti che Taconova ha realizzato ancora all'inizio degli anni Ottanta e questi sono sviluppati, sono la famiglia Tacosettere. Il vantaggio principale è che l'installatore può immediatamente vedere qual è la portata dell'impianto e può regolare agevolmente senza strumenti sofisticati di misura e quindi può ottenere rapidamente il risultato di avere il massimo bilanciamento dell'impianto e quindi la massima efficienza energetica e il comfort quindi per l'utilizzatore e anche fare sì che si possano evitare fastidiosi rumori di fluido nelle tubazioni e attraverso le valvole. Questi sono i vantaggi principali. La domotica e la connettività sono entrate prepotentemente in questo settore. Possono essere applicate anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento? Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo ad esempio le pompe di circolazione, di cui parlavo prima, la pompa che è in caldaia dialoga con la caldaia e quindi non soltanto ha la funzione di far girare l'acqua all'interno del circuito ma riesce con dei segnali o PWM o l'Inbus a dare tutta una serie di informazioni alla caldaia per aiutare la caldaia a generare la massima efficienza e anche eventualmente una manutenzione preventiva. Qui in Fiera stiamo presentando una unità di interfacciamento idraulico che ha la possibilità di essere connessa attraverso un modbus con i sistemi di gestione degli edifici e quindi anche in quel caso avere un'assistenza da remoto, avere una manutenzione preventiva, quindi è assolutamente il trend. Stiamo usando molto le fiere proprio per capire quali sono le esigenze del mercato e dei nostri clienti. Queste fiere che come ricordavi poc'anzi tornano in presenza e finalmente anche per il pubblico, gli utenti è possibile toccare con mano, vedere direttamente dal vivo i vostri prodotti. Cosa vi aspettate dall'edizione di quest'anno? Beh ci aspettiamo intanto la gioia di toccare, di stringere mani, di vederci, di rivedere in faccia i nostri clienti. Per noi è sempre una gioia immensa e ci aspettiamo di avere qui a Milano l'opportunità di conoscere nuovi potenziali clienti. Noi siamo sicuri di avere qui un prodotto o una soluzione interessante per chiunque venga a trovarci attraverso le cinque aree di competenza che sono appunto le pompe di circolazione, le valvole di bilanciamento, le valvole di miscelazione, la tecnologia del radiante e la tecnologia dei sistemi.